Se oggi il dipartimento che dirigo, il DIFCLAM, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, è un dipartimento di eccellenza, il merito è in primo luogo della facoltà di lettere da cui è nato, una facoltà che per moltissimi anni è stata al vertice delle più importanti classifiche delle università italiane. Il nostro compito oggi è molto difficile, nei prossimi 50 anni dobbiamo essere all'altezza di una storia straordinaria. La facoltà di lettere di Siena è nata e cresciuta negli anni 70, in tempi non meno difficili e sicuramente non migliori di quelli che stiamo vivendo. E la sua esperienza si è conclusa nel 2012, quando il nostro Ateneo, anche grazie al lavoro del preside di lettere Roberto Venuti, stava iniziando a risollevarsi dalla più drammatica crisi finanziaria e non solo che abbia mai attraversato. Per essere all'altezza dei maestri che ci hanno preceduto, in questo anno di festa e di celebrazione, dovremmo fare due cose, secondo me. La prima è rileggere l'esperienza di quei maestri con senso storico e critico, senza inutili nostalgie, senza scadere in una stucchevole geografia e anche riconoscere i loro errori, per non ripeterli. La seconda cosa è fare tesoro del loro insegnamento, non disperdere un patrimonio prezioso, che vorrei riassumere in tre punti fondamentali. Primo, i nostri dipartimenti, come la vecchia facoltà, devono essere intimamente legati a una città e a un territorio ricchissimi di storia e di cultura e al tempo stesso avere una fortissima proiezione nazionale e internazionale. E infatti più della metà dei nostri studenti provengono da fuori regione e abbiamo scambi per studio e per ricerca con tutte le più importanti università europee e non solo. Secondo punto, i nostri dipartimenti, come la vecchia facoltà, credono all'insegnamento seminariale, credono nel dialogo fra docenti e studenti, nello scambio quotidiano, non solo nelle aule, non solo a lezione. Abbiamo un senso di vera comunità e dobbiamo preservarlo. Terzo punto, a Siena quanti lavorano sulla letteratura, sulla storia, sulla comunicazione? Non pensano di essere semplicemente specialisti rigorosi, tecnici di un sapere settoriale, vogliono anche provare a essere donne e uomini di cultura in un senso più ampio, senza presunzione, ma con coraggio cercano di essere lucidi nell'osservare, interrogare, criticare il mondo difficile che ci circonda, fuori dai nostri recinti accademici, fuori dalle mura di questa bellissima città. Da noi hanno insegnato e tuttora insegnano non solo professori, ma anche importantissimi poeti, romanzieri, saggisti, insomma intellettuali. In estrema sintesi sono questi, secondo me, i tre elementi decisivi che hanno reso la facoltà di Lettera di Siena un punto di riferimento tra le discipline umanistiche. Proiezione internazionale, senso di comunità e infine, per dirla con Franco Fortini, uno dei più illustri, forse il più illustre fra coloro che hanno insegnato da noi, verifica dei poteri e riflessione sui destini generali. Il mio dipartimento ha cercato di essere fedele a questi principi anche durante la pandemia, organizzando una serie di dialoghi e di lezioni online su temi di grande respiro, una serie che si chiama Extrema Ratio e ha coinvolto migliaia di ascoltatori. È arrivato ormai alla diciottesima puntata, con vere e vivaci discussioni all'interno dell'aula virtuale, in diretta e senza mai un problema tecnico. Nella programmazione di Extrema Ratio del 2021 inseriremo anche alcuni incontri dedicati alla storia della nostra facoltà e al futuro dei nostri studi, perché i dibattiti di Extrema Ratio, cui hanno partecipato e continueranno a partecipare alcuni fra i più importanti intellettuali italiani, sono un luogo virtuale in cui si tiene vivo lo spirito della nostra facoltà di lettere di Siena. C'è però anche un luogo fisico che più di ogni altro rappresenta simbolicamente questo spirito e conserva memoria degli studi, delle discussioni, degli incontri che hanno segnato la nostra storia. È la biblioteca di Fiera Vecchia, con il suo meraviglioso giardino. Siamo fieri di essere riusciti a tenerla aperta in questi mesi, nonostante la pandemia. Proprio io ieri, con il caro amico Stefano Moscadelli e i tecnici del Rettorato, abbiamo messo a punto gli ultimi dettagli del progetto di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento della nostra biblioteca. L'Ateneo si è impegnato a far partire i lavori nel 2021 e questo, credo, è il più bel regalo di compleanno che la nostra vecchia facoltà e i nostri nuovi dipartimenti potessero ricevere. Proprio nel giardino di Fiera Vecchia, Covid permettendo, vorremmo concludere le celebrazioni per il cinquantenario con una grande festa all'inizio dell'estate. Grazie a tutti voi e a tutti voi che oggi ci avete ascoltato e buon compleanno alla nostra facoltà.